GF VIP 7, confronto tra le lacrime per Luca Onestini e Mrazova, non ti avrei mai lasciata, ti chiedo scusa se... Class uguale P1 sta facendo discutere il rapporto e il risolto tra Ivana Mrazova e Luca Onestini. Class uguale P1 ieri sera i due ex fidanzati si sono confrontati nuovamente sulla fine della loro storia. Class uguale P1 durante la puntata di giovedì sera Ivana aveva rivelato che dopo la morte del padre avrebbe voluto sentire Luca più vicino. Class uguale P1 il geffino però non ha preso bene le parole della ragazza ieri e è tornato sull'argomento. Class uguale P1 successivamente però Luca e Ivana si sono ritrovati sul divano. Il dippone si è aperto con la ragazza e tra le lacrime ha confessato. Per vedere il video clicca span qui, span qui e span span qui. Oh nu așa-i si zici ca stom ford la cum mă comport in treaba asta nu-i loc de confort. Ricord si-o mor tot sunt un crucișător lansand rachete aerosol. Inca de cand el era broke si se uza de aerosol. De cand avea mall, de cand nu stiai ce un miss call. De cand ascultam gangsta rapper baza pe pistol. Daca nu intelegi textul suno pe Irina Nistor. Va intalniți in tristor la zero grade viscall. Nu tac nici stins mort, o sa mauzi prin sol. Transpir hip hop prin pori, bile mari zintori. Ca stii ca dupa trimi ciocan umane, inspre cer si dau si Oscar-ul mare.